Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con una nuova puntata della nostra serie con gli stati confederati americani. Nella scorsa il Messico ci ha pugnalati alla schiena, però siamo riusciti a conquistare l'America del Pacifico. Ora, al Messico sta per prendere il più grande cazziatone della sua vita, perché hanno poche truppe ma non so per quale motivo abbiano deciso di attaccarci. Infatti come vedete tante bollicine verdi, intanto nel mondo fanno casino, fanno danni. Allora, al nord siamo messi un po', non dico male, non dico male, però potremmo andare meglio, potremmo andare meglio. Qua abbiamo fatto una bellissima pocket, c'erano dentro due divisioni e le abbiamo distrutte. Ok, nel Messico stiamo andando, forza. Sì, army experience. Ok, qua stiamo pushando, avanti. Uno di voi va a Monterrey. Quanto serve per il Messico? 24%. Ok, ce la faremo, ce la faremo. Tanto stiamo già pushando. Ah, usate le ferrovie. A tu, uno, se ne va via. Nuovi ammiragli. Viete waves. Cosa sono le waves? Uh, sì. Abbiamo pochi stabiliti però, quindi facciamo che facciamo i marines prima. L'Etiopia dichiaro guardare l'Eritrea. Ok. Qua, vai giù. Basic armor protection, fatto. Andiamo agli improved engine. Guarda la cara. Tagliamo il loro esercito. Intanto se ogni tanto guardo di là, è perché sto, sono connesso con Anydesk sul PC di mia nonna. E sto installando il, sto reinstallando Windows 11 perché le sto cambiando hard disk. Quindi sto facendo un po' di magheggi in virtuale. Altre fabbriche. L'ho detto come lo dicono i telecoronisti del calcio, tipo quando uno prende palla. Non mi viene nessun nome di un calciatore, quindi dirò... Guarda la cara. No, ignorate. Ignorate. Ho guardato troppo ai pochi partiti di calcio per sapere di cosa sto parlando. Mandiamoli tutti giù. Mandiamoli giù, poi andate di qua e poi andate giù, 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 alla paz. Magico City. Ora possiamo andare. Cosa? Abbiamo preso quello al nord! Abbiamo preso la capitale, evidentemente. Allora, facciamo così. Sandimand. Sandimand. Chiediamo anche di questo. Ok, abbiamo preso tutto. New York City. Non possiamo prenderci New York City. Va bene. Ti lo prendi tu. No problem. Confirma an exit. Loro, ok. Ok, signori miei. Ok. Allora. Qua ci abbiamo già il fronte, quindi facciamo... Zacchete. E lo allunghiamo. Voi, che siete già qua... Anzi, selezioniamo il bel maresciallo. Voi, che siete già qua... Fate un bel fronte qua. Ho sbagliato. Voi, che siete già qua... Volevo fare... Volevo fare il fronte unito. Andate qua. Zacchete. Ah no, ma sei unito. Ma allora... Ma allora, carissima... Vieni fino qua. E facciamo... Voi... E voi... E ne andate tutti qua. Anzi, assegno proprio direttamente. Ok. A posto. A posto. E... Per favore, ferrovie. Per favore, ferrovie, perché non... Non abbiamo tempo. Ma intanto i russi stanno supportando questi. Ma che cazzo fanno? Ma ecco perché mi stavano sfondando giù. Perché c'hanno mille... Mille aiuti. Ok. Abbiamo espanso i Marine Corps. Facciamo... Espandiamo i Dockyards. Mexico City. Quanto ci manca? Eh, un pochino. Vai di là. Aiuti che compari. Ah, tu intanto vai di là e poi vai... No, non puoi andare. Fermo. Ah, tu vai laggiù. E poi vai a Veracruz. Fermo. Fermo. Colombia ha dichiarato guerra al Panama. Mmm. Problemuccio. Dai, ce lo prendiamo a sto Mexico City? Sì che lo prendiamo a sto Mexico City. Wall of Mexico City. Abbiamo vinto? Ah no, gli manca un per cento. L'abbiamo preso lì? Qua ci sono città? No, no. Qua. Andiamo qua sotto. Vai anche tu, anche se non hai... ...organization, però vai. Vai anche tu e vai anche tu. E appena prendiamo questo... E infatti, appena abbiamo preso quello, abbiamo vinto. Select all. Confirme an exit. Ora tutti voi ve ne andate qua. Ferrovie. E state fermi. Expand dockyards. Liberty ships. Qua ricerca. Armatura. Dei carri. Aspettiamo che arrivino tutte le nostre truppette. Dockyards. Facciamo un altro po' di sottomarini. E non ho punti. Alleniamo comunque i sottomarini. Anzi, qua. Cruiser submarine. Tu come sei? No, è meglio il cruiser submarine. O questo cruiser submarine. No, è meglio questo. Minchia quanta flotta. Ma dov'era tutta sta flotta, scusatemi? Boh? Ma non è che li ho vinti conquistando questi e questi? Spagnoli e... Cioè, mexicani e altri americani? Secondo me sì. Intanto voi select all e non vi posso unificare. Però vi unifico dopo. Togliamo questa? No. Unificatevi. Medium tank improved. Allora, potenziamo i marines. Qua, grazie mille. Qua sono arrivate tutte le nostre truppe. Quasi. Come siamo messi? Eh. Facciamo l'extensive conscription. Perché scommetto che mi manca un sacco di manpower, infatti. Un sacco. Con le armi siamo a posto. È il manpower che ci manca. Andiamo. Qua gli aerei li possiamo spostare. Facciamo così. Ma andiamo a Detroit. E sfondiamo queste linee. Madonna, ma chi se ne frega di tutti questi eventi. Ci sono troppe guerre nel mondo. Davvero troppe guerre. Facciamo il mechanized. Liberty ships fatto. Ehm. Light cruiser. Qua andate tutti. Costruzione. Facciamo un altro po' di civilian. Quante ne abbiamo? Ne abbiamo un sacco di civilian. No, facciamo allora fabbriche militari. Voi andate di là. E voi andate di là. Così circondiamo completamente Detroit. A posto. Voi andate di là. E... Dobbiamo togliere l'ordine. Facciamo un unico bello ordine. E andiamo fino a qua. E tutte le nostre truppe vanno di là. Usate pure le ferrovie e partite. Con manpower come stiamo andando? Non so se stiamo salendo. Non mi ricordo. Però tutti questi eventi che ci danno manpower non mi dispiacciono. Proprio per niente. Ok. Improved armor protection. L'artiglieria. Potenziamo l'artiglieria. Dobbiamo anche andare avanti con... Cioè dobbiamo creare un altro slot di ricerca perché... Solo con tre è un po'... È un po' bruttino. È un po' lento. Qua abbiamo intrappolato un po' di truppette. Andiamole. Anche qua. Oh! Siamo quasi ai piedi di Washington. Mandiamo tutti. Anche voi andate qua sotto. Dai che tra poco prendiamo Washington. Marinsal 2 fatto. Potenziamo anche i paratroopers. Light cruiser fatto. Qua... Dove ci portiamo avanti? Lì non possiamo. Potenziamo... Cioè ricerchiamo i radar. Qua manca davvero pochissimo. 98... 99... Washington è caduta. Voi date una mano qua. E ora date una mano su. Ora New York City. Minchia se ti manca un sacco di punti vittoria. A te cosa posso dare? Guerrilla fighter. Intanto tu muoviti veloce. Spostiamo anche gli aeroplani. Anche se ne ho davvero pochissimi. Uh! Ne ho un sacco invece. Ohi. Sacco. Per dire. Appena arrivano. Li unifico tutti. Tutti quelli che non posso assolutamente unificare. E li mandiamo qua. Così danno la mano. Tu vai di là. Tu vai di qua. Allora qua... Non pensateci nemmeno. di togliere il foro. Non so perché qua non sono andati. Non sono avanzati. Ah, tu stai fermo. Tu vai qua. Tu continua a stare fermo, per favore. Ok. E stiamo andando avanti solo con la panteria praticamente. Infatti in eventual equipment un po' di supporto e un po' di artilleria. Basta. Oh, riusciamo ad attaccare New York? Sì. Siamo arrivati ai piedi di New York. Dai, manca 90%. Cioè mancano 10 punti su 100. Allora. Naval Training o Expand? No, secondo me Naval Training è meglio. Perché non ci serve tantissima forza di invasione. No, tutto il Messico è nostro. Dai, oh, ma volete perdere? Cioè, volete andarvene? Per favore. Intanto New York è isolata. Voi per favore andate, anche voi. Dai, 96. Come 78? Oh, dovremmo essere in positivo con il Manpower. Eccolo lì, infatti. Andiamo anche Boston. Però non ce la facciamo. Ci mancano... Ci mancano truppe o pipaggiamento o chissà chi. O chissà cosa. Voi... Ah, sì, state già andando a New York. Avvicinatevi, però. 95. Anche, è sempre lui. Sempre questo anziano. Adna Romanza. Ok. Il Fall of Bo... Sono caduti tutti. Select all. Submit demands. A posto. E abbiamo conquistato anche il... Ci siamo ripresi tutta l'America. Ora possiamo fare tutti gli altri focus. Penso. Ok. Ok. Abbiamo finalmente conquistato tutta l'America. E anche il Messico. GG. Vediamo. Il Canada è con qualcuno? È nell'intesa. Hmm. Sì. Quando vinciamo la guerra ci prendiamo le loro barche. Unifichiamole tutte. Allora. Vediamo. The American Union State. Non capisco cosa cambi. Switch map. Keep map color. Ok. Questo ci dà political power. Questo ci dà stability. E anche questo ci dà stability. Intanto è finito il tempo per questo episodio. Ah. Interrompi. Ok. È finito il tempo. Però io devo decidere cosa fare. Ehm... Sì. Cambiamo. Siamo gli Union State. Yep. A posto. United States of America. No. Non siamo più i confederati. No. Ok. Destroy the clan. Rebuild the country. Ok. Allora. Abbiamo vinto. Siamo ritornati gli Stati Uniti. E... Nella prossima puntata vediamo... Come avanzare politicamente con... Con questa campagna. E con questa America... Comandata dall'America First. Dai... Dai tizi di destra. E niente. Bella. E ci vediamo nel prossimo episodio. Allora. Grazie a tutti.